Attimi di paura questa mattina in zona Tombaccia, Pesaro, per un principio di incendio che ha interessato un condominio in via Sarnano al Civico 7. Il fumo, salito fino al dodicesimo piano, ha creato il panico tra gli inquilini che sono stati fatti evacuare. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Come dinamica dell'incendio c'è stato un principio di incendio, comunque è interessato il divano tecnico dei contatori. E da lì il fumo poi si è propagato lungo la tromba delle scale all'ingresso degli appartamenti. Quindi c'è stato un attimo di panico tra il personale che abitava, tra gli abitanti degli appartamenti. E noi come prima cosa abbiamo fatto un'evacuazione di tutta la palazzina, cautelativamente, fin tanto che poi siamo riusciti a individuare l'incendio che ha interessato il vano tecnico dei contatori. Niente di grave, per fortuna, quindi si è comunque risolto. Al momento quindi devono aspettare che la ditta ripristina il vano contatori. Per fortuna non è successo niente di grave, è tutto sentito controllo perché comunque il condominio è sistemato dal punto di vista del piano di evacuazione è funzionato perfettamente, quindi tutto a posto. Abbiamo anche dei capi scala molto efficienti del condominio che hanno aiutato e sensibilizzato le persone. Giusto per ringraziarmi. Grazie.